Allora Presidente, voglio parlare direttamente con te Aurelio, tu allora non devi comprare un solo attaccante, tu forse stai pensando in un attaccante proprio, manco uno, invece tu ne devi comprare due, vendiamo Manolo, liberiamolo, così che lo vogliono, pigliano un po' con l'aria e un po' con l'altro diventerà sorridente, che quello non è che non rire, quello è che si è attaccato ancora, quindi ne devi comprare due, muovere come fa. O accadda a Pavoletti e a Muriel, o ti do un'idea, siccome domani c'è Napoli-Inter, accadda a Icardi e a Vandana e facciamo uno e due servizi, Presidente mi raccomando.